Salve pezzi di merda! Siamo tornati, siamo sempre Simone e Nicola, H i disinformati, e oggi vi proponiamo un gioco horror che giocherò io che mi cacco, mi cacco, mi cacco. Sì, perché purtroppo io ci ho provato a giocare ai giochi horror e il video sono io che guardo lo schermo senza un'unica espressione facciale, cioè sono la... come si chiama quella di Twilight? Bella. Eh, ma l'attrice. Bella. Non lo so, vabbè lei, avete capito. Praticamente il numero è espressione facili di Bella di Twilight. È così. Vabbè, Steven Seagal, dai, così facciamo... Ok, iniziamo perché appunto io mi spavento tantissimo, anche se vedete c'è la luce accesa, altrimenti non riuscireste a vederci. Andiamo. Non ho nemmeno le cuffie, però. Vuole le cuffie. Lascia stare. Vediamo anche la sequenza iniziale. Ah, effettivamente è possibile. Va bene. Madonna, mi ammazzo oggi. Mi vuole male. Grazie. Sono già giusto, Totile? Dessa, sinistra? Sì. Guarda che mi potrei spaventare un sacco, eh. Tranquillo, umore. Madonna, l'audio. Ah! È schiacciato il filo. Ho schiacciato me stesso. E con inconveniente. Se è troppo alto c'è la rotellina sulle cuffie. Non mi ha sentito perché l'audio... Ho sentito, ho sentito. Non è vero. Sì. Se l'audio è troppo alto c'è la rotellina sulle cuffie. Adesso lui godrà nel vedermi morire di infarti. Oh, control. Ah, devo tenere lo schiacciato. Oh, questo gioco è molto bastardo. Sì. Corri. Corri. Basta. Ecco. Allora... Dicevo, questo gioco è molto bastardo. perché ci sono dei mostri che penso vedranno i nostri amici. Se non muoio mi infarto più. Bravo, che mi... Mi spavento a qualsiasi cosa succede qui. E non lo so, è colpa mia. Oh, una bella luce. Rimango qui e per tutto il gameplay. No, vai avanti. Oh, chiudiamo il gameplay e ci metto... No, andiamo. Le cose sono due. Ma non ci sono io a fianco. O muori nel gioco o muori nella vita vera. Entrambi. Eh... Vado dritto. Allora, dovete sapere che questo gioco è stronzo non solo per i mostri ma anche per il fatto che alle mie spalle la mappa continua a cambiare. Non solo è generata randomicamente quindi ogni volta che riprovo a giocare la mappa è diversa quindi non so dove andare ma non ha i rumori. E... Fanculo, fanculo! Un attimo, eh. Qua non si sa mai. Vabbè, andiamo. Perché il mostro vi vede e si deve rinicchiare se ne vanno via perché hanno paura di voi. Dicevo, alle mie spalle la mappa cambia quindi se magari prima ho svoltato a destra adesso potrei ritrovare anche un incrocio completo per dire e mi sto cacando tanto di qua, di qua, di qua andiamo di qua. Io, inizialmente, vorrei spendere due parole su questo gioco. Il problema è che lui parla di continuo e di... Madonna, ma c'ho un culo, eh! Dai, però! Ogni volta che... Inoltre, questo gioco l'ho personalmente giocato una volta e non mi è piaciuto perché, come ho già detto io sono passivo agli horror e quindi trovo scocciate dover camminare per ore all'interno di un tunnel e troverò non subire effetti di alcun genere. E mi spaventa? Piano, piano. Intanto vediamo Simone che ignora messaggi scritti sulle pareti. Shhh! Zitto! E qua è pericoloso. Madonna, mi sto prendendo paura proprio da morire. Non ce la posso fare. Ah! No, io non vincerò mai questo piano. Madonna. Nico, io c'ho paurito. Basta con questi rumori che mi spavento. Madonna, qua succedono le cose improvvise. Oh, piano! Come di qua? Uh! Cos'è? generatore dall'altra parte. Vabbè, io vado di qua. Madonna. Mmmmm. Io c'ho paura a girarmi proprio tantissimo. Cioè, se mi giro muoio, lo so già. E anche l'ambiente... Eh, madonna! L'ambiente è sempre lo stesso. Ecco, quasi un altro punto a sfavore del gioco dal mio punto di vista. perché c'è poca varietà di ambienti. Sono che ci sono anche altri ambienti tipo... A me per il fatto che diventa monotono mi fa spaventare. Ma magari dovevi passare tutta la griglia per le griglie. No, non ci stanno... Con le grate lì sono tutte chiuse e non si possono aprire. No, no. Ci stanno alcune con il buco dove ti abbassi e passi dentro, sappio. Non era una di qua. Non era una di quelle. Basta, zitto, che sospiri. Devo sospirare io, non tu, stronzo. Quanto ci giochiamo che questo tubo si stacca. Uh, ma c'è davvero un generatore? Abbiamo ottenuto tre glow stick e mezzo. Inizio a mettere il... No, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Mi chiede come quel mezzo glow stick possa servire, possa accendere senza... Infatti non serve un cazzo. Me ne vado, me ne vado. Tanto quel che... E lo sapevo. Come si toglie? Oh, avete visto quel mostro prima che è un alieno uccello, non so come chiamarlo. E mi insegue. Quindi io, quando vedo questi piccoli ciechi mi abbasso perché penso che per un motivo X possa servire a farlo andare via. Madonna, mi sto prendendo paurissima. Giuro, un amico che giocava ad amnesia ogni volta che usciva il mostro si chiudeva in un angolino pensando che il mostro scappasse. Madonna, ma perché? Ma perché? Il gioco mi vuole male, mi chiude tutte le strade. Non ne rumori. Zitto! E adesso davanti a te hai un pennuto! No, se vado nel buco mi ammazzo, muoio. Un pennuto, non ho letto un buco. E non sento. Madonna, che paura. Non esploderemo. Abbiamo trovato Slenderman. Non mi interessa. Cazzo! Che bello! Dimmi tu dove devo andare. Da qualche parte. piano amico piano piano. Sì. Abzumato. Vabbè. Piano. Allora, vorrei spedere due parole sulla grafica di questo gioco. Devo dire che è effettivamente ben fatta. Anche perché onestamente è fare quel basso numero di texture che alla puntina ci sta. Perché sono giusto le texture dei muri per fare davanti il gioco. e di altre parti. Per il resto non sembra così bello nel video perché siamo dovuti scendere a compromessi per avere abbastanza FPS e non farlo scattare dappuna la registrazione e abbiamo abbastato un po' la grafica. Sti urli qua. Ah, ho trovato una via di uscita. Forse. Forse, Nicola, forse. No, non devo correre, non devo correre, non devo correre, non devo correre, non devo correre. Coro. Le chiavi. Ho trovato le chiavi. Non mi interessa. Madonna. Madonna. Coglione. Corri stronzo. Corri. Io lo sapevo. Corri. Madonna. Basta sti umori. Corri. Non voglio girarmi, non voglio girarmi. Madonna. Scusate se imprego, ragazzi, fermi. Mi spavento un sacco. No. Siamo tornati all'inizio. Merda. Oh, io aspetterò un attimo che si calmi la situazione. così che si muore non riusci mai più da questa stanza. Madò, che paura. Madò, mi sono spaventato della luce, ragazzi. Tanto mo' scoppia qualcosa, di sicuro, mi va il fumo in faccia. io, basta, non mi interessa leggere. Andiamo qua. È pieno di rumori inquietanti. Io non ce la posso fare. madonna, sei un bastardo, lo sapevo. Sei un bastardo. Sei un bastardo. Dove stavo andando? Di qua. Mi fa pure girare. Sei un bastardo. eh, lo so. No? Non ci voglio giocare. Basta, torno indietro. È bello che l'ho chiesto io di fare sto gioco. Cioè, non è che... È suicida, perché io gli horror non li faccio, perché si annoia la gente a guardarmi, a vedermi con questa espressione davanti allo schermo. Perché lo vedete? Io non mi sto muovendo. Nonostante non senta l'audio, però in realtà non mi sto muovendo. io non ce la faccio, però non ce la faccio. Mena, però quanto è lungo? Qua sotto... Allora... Fuggo! Fuggo! Madonna, c'ho una paura, ti giuro. Tra l'altro lo schermo è un pochino sporco, quindi magari certe volte penso di vedere i mostri, ma in realtà non li vedo, non ci stanno. Non è così facile da pulire lo schermo. Eh, 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 eh. Questa puntata si chiamerà i vicoli ciechi. Sapete, ve lo faccio davvero. Eh, magari metti il glow stick? Grazie. Madonna, ho paura. Scusate se non parlo molto, però come vedete sono molto concentrato sul gameplay di questo vanish. Io al contrario non parlo molto perché voglio dare più spazio alle sue reazioni che alle credibilità che mi dico. Infatti il prossimo video lo faremo senza di me e vi chiederemo di... La cosa, beh, di nuovo qua sto... Vedete come cambia la mappa, vedete? Prima da questa parte c'era c'era un buco mentre adesso c'è tutto un corridoio. C'è il generatore che prima non c'era. Adesso il mio obiettivo sarebbe quello di trovare una porta in cui insomma usare le chiavi che ho trovato prima. Basta, basta. Abbiamo giocato... Ho giocato abbastanza. Ragazzi! Le faremo registrare un altro proprio in serata quindi morirà lo stesso tranquilli non è un problema. Io ci ho provato sono arrivato anche a buon punto perché ho trovato sia il generatore quindi con i glow stick sia le chiavi. Non sono riuscito ad arrivare alla porta che mi avrebbe condotto alla fine del gioco. Come vedete il gioco è stato abbastanza bastardo insieme a Nicola nei miei confronti. Sono morto perché mi hanno strangolato. Mi sono spaventato abbastanza. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace commentate per farci sapere la vostra. E prima di chiude volevo avvisare che voglio fare un piccolo esperimento. Mi sono stati dei primi giochi horror che stiamo facendo il prossimo lo faremo senza la mia presenza magari forse anche con luci diverse se riesco a sistemarle perché so che quando la gioca vuole vedere un gioco horror preferisce vedere la reazione anche di una persona in un ambiente chiuso in un ambiente oscuro e quindi la presenza magari di un amico o comunque un ambiente illuminato può andare a rovinare l'esperienza. Quindi il prossimo lo faremo in maniera diversa e vi chiederemo nei commenti di andare a scrivere quale dei due generi preferite perché comunque la mia presenza è obbligata visto che è un poveraccio e non ha un computer recente. Sì. Allora se volete condiviete anche questo video su Facebook dove volete con i vostri amici e suggeriteci dei giochi horror da far provare a me che sono così. Insomma ci vediamo al prossimo gameplay al prossimo video. Ciao.